Salve a tutti, ecco il nostro secondo appuntamento con il percorso del gruppo di lettura della Biblioteca di Escaldina. In questo appuntamento vogliamo parlare di un libro che abbiamo letto, che ci è molto piaciuto e che è veramente molto speciale. Vi ricordo che il nostro percorso era partito dai Paesi Baltici e un figlio di questi Paesi Baltici, in particolar modo di una città che è Vilnius, è stato Romangari. Romangari, tra i tanti libri, ne ha scritto uno molto bello che è questo, La vita davanti a sé. Se non fosse che La vita davanti a sé è un romanzo bellissimo, dovremmo dire che la vita di Romangari è stata ancora più bella e più straordinaria. Romangari ha vinto due volte il premio Goncourt, il più prestigioso premio letterario francese, una volta con il suo vero nome e un'altra volta sotto pseudonimo, Emila Jarre. Ma a che a che fare Romangari con i Paesi Baltici? Appunto dicevamo prima, lui nacque a Vilnius da genitori di origine ebraica e attraverso la Polonia scappò con la madre in Francia, di cui poi prese la cittadinanza. Di cosa parla questo libro, La vita davanti a sé? C'è sicuramente qualche cosa di autobiografico, ma in realtà parla di un ragazzino che si chiama Momo, ossia Mohamed detto Momo, che è allevato da una vecchia prostituta, Madame Rosat, insieme a un'altra decina di bambini nel quartiere francese di Belleville. Stiamo parlando di 40 anni prima dei racconti di Pennac ambientati a Belleville, a Parigi. E questa signora, questa Madame Rosat, che è di origine ebraica, che è scampata al campo di sterminio, alleva i bambini delle prostitute che lavorano nel quartiere. Momo però non vede sua madre, non sa chi è sua madre, anche se Madame Rosat riceve mensilmente il pagamento della retta e vive con questi bambini e con questa donna, che in realtà è il suo unico affetto, in un quartiere anche allora, già allora multietnico, ma ricco di contraddizioni, di prostitute, di travestiti, di gente di malaffare, che comunque nutre per la comunità alla quale sente di appartenere, un affetto e una solidarietà molto importante. Quindi Momo vaga per questo quartiere con i suoi pensieri, con le sue fantasie, con le sue necessità e la scrittura di Garia è una scrittura che registra fedelmente nello stile i pensieri di Momo. È una scrittura fluida, è una scrittura avvalanga e come possono essere avvalanga i pensieri dei bambini dell'età di Momo. Madame Rosat si ammalerà, Momo farà di tutto per riuscire a salvarla e anche per, nel momento in cui si renderà conto che sta per morire, di restituirla a quello che è la sua religione e quindi di aiutarla ad andarsene in un luogo pieno di simboli della religione ebraica. C'è chi si prenderà cura di Momo e la storia della vita davanti a sé è una storia sicuramente che finisce bene, a buon fine, però diciamo che la bellezza di questo libro è veramente è veramente la descrizione di quanto possa essere meravigliosa, fantastica, particolare l'infanzia anche se vissuta in situazioni così particolari. In realtà poi Pennac racconterà anche in altro modo differente, insomma anche se in modo differente il quartiere di Belleville e le persone fra virgolette trasgressive che vivono in questo quartiere. È un racconto scritto benissimo, è pieno di umorismo, pieno di poesia, sicuramente crudele in certi aspetti, fa ridere, fa piangere, parla della vita della morte, proprio perché il punto di vista è quello di un bambino che racconta in modo semplice e senza pregiudizi. È un bambino che è circondato, come dicevamo prima, da prostituti alcolizzati da tanta povertà però sicuramente anche da tanto amore. È un libro da leggere che ci fa incantare, da questo libro è stato tratto un film che purtroppo non si trova più in giro, che aveva il protagonista Simone Signoret, dovrebbe uscire quest'anno il nuovo film con protagonista Sofia Loren, ma vi auguro di leggere il libro che sicuramente è un'introduzione molto bella e molto affascinante. A presto!